ho preso conto allora stavo a far quella no no ha parlato del merda ha parlato del merda i video i carabinieri nel 2015 il video poi lo dovevo togliere perché c'era non è stato tolto c'è gente che visualizza i video perché dicono che sono divertenti alcuni dicono che sono a merda vabbè comunque se non volete metteteci in like a me non me ne frega niente amici miei di facebook però io volgare no perché se volete censurare questo video diretta che sto facendo adesso per me fatelo pure non c'è problema o se non vuoi vabbè parliamo un po' meglio come adesso vengono i commenti ah vediamo un po' che un po' che vediamo i commenti eh ora partono i commenti vediamo che dicono aspettiamo vediamo un po' che dicono allora vedo che state 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 aspettando che vi mando a quel paese vero ma lo state vedendo no perché sei stata no io stavo comunque per me è uguale fate finta che io non esisto ah ma se stai guardando il video Alvaro grande eh mo ti mando un saluto ciao Alvaro ciao allora allora la diretta no si è lamentato perché eh fa contatto qui mannaggia prende poco ma che sta dicendo ah no niente è che Luciano si lamenta perché dice qui le cagate ha parlato male è stata molto scorretta a me non mi piace come parla lui è un maleducato dice le cagate di piccioni dice io dice quando c'era quando quando Baretti stavo là al comune lo lo venivano sempre a 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 uno è il sindaco di questo che è sindaco amai appone ma ma che 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 si 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 guarda guarda fai bene stiamo a vedere la televisione Alva dove c'è una faccia chi è qui una maglietta bianca c'è uno c'è uno che sta bianca chi è non lo conosco è uno che sta guardando la diretta c'està guarda